3 milioni di euro non dichiarati al fisco, 200 mila euro di IVA e Vasi ed illecito trasferimento di denaro contante per circa 20 mila euro. Questo il bilancio dell'operazione Magic Cash condotta dalle fiamme gialle della compagnia di San Giovanni Valdarno. I finanzieri hanno infatti scoperto una serie di illeciti a capo di aziende ed imprenditori del Valdarno Aretino, ma anche delle province di Arezzo, Firenze e Prato. Nel corso di alcuni controlli per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, l'attenzione della Guardia di Finanza si è infatti concentrata su alcune anomale movimentazioni finanziarie. Tutte erano riconducibili ad alcuni professionisti che dai riscontri effettuati sulle banche dati della finanza risultavano tra loro collegati attraverso società nel campo della progettazione e dell'edilizzo di alcune aree della Toscana. Grazie ai controlli è stato poi possibile tracciare pagamenti in contanti che hanno portato i militari ad avviare anche ispezioni di natura fiscale riferite al periodo 2015-2017. Dalla ricostruzione fiscale è così il risultato che aziende e professionisti hanno messo di dichiarare al fisco circa 3 milioni di euro e 200 mila euro di IVA.